... che stava cercando di contrabbandare il mio parco fuori dal paese. Quattro diare in questa zona non è per il video di fuori. Più di un terzo della popolazione vive in uno primetto conversato. Che cosa vuoi? Quale è il documento? Non farò ma state indietro. Mi prenderò nella macchina e vi farò vedere. Mi rispettano che in questo momento c'è un peccatore di strada. Andavano indietro e io prenderò i documenti da farvi vedere. Allora posso accendere? Ti ho mostrato il mio risultimo della corretta. Tenente colonnello della Guardia Nazionale Romana Natovice, l'impartimento di sicurezza nazionale, gruppo Abbas. E allora? Adesso lo vuoi sapere. Cosa ho fatto di sbagliare? Prima di tutto hai l'impranto del codice generale. Sto facendo il mio lavoro. E tu mi hai minacciato con una pistola. Mi ha municerto tutto. Tengo la pistola solo per sicurezza. Avvicinati e leggevelo. No. Sempre no. Avvicinati e leggevelo. Mi darei una tocca di testa e sarà finita. Il testo oppure no che importa. Potremmo farla finita in qualche modo. Non ti preoccupare. In qualche modo dovrà finire. E finita con l'incriminazione dell'uomo spera aver finciato ancora in stagione e per aver minacciato l'office. Voi brincare? Voi? Voi brincare? Voi? Voi brincare? Voi brincare? Voi brincare?